Buona domenica dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Damiano Fedeli. In A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono rallentamenti fra Arezzo e Valdarno, coda fra Incisa Reggello e Firenze Sud. Un chilometro di coda per lavori fra Firenze Sud e Firenze Impruneta, svincolo che, lo ricordiamo, è chiuso in entrata per Bologna e in uscita da Roma. Code a tratti per traffico intenso fra Firenze Nord e la variante di Vivalico. In direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso fra Valdarno e Arezzo. In A12 in direzione Livorno, code a tratti fra Carrara e Versilia, coda in direzione Sud alla barriera di Rosignano. In Fipilì, per lavori, c'è un chilometro di coda fra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze. Attenzione al vento forte fra la diramazione per Pisa e Livorno. Passiamo ai treni, per guasto temporaneo fra Lucca e Viareggio ci sono ritardi e cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!